Quando accendiamo la luce, nella mia scuola risparmiamo energia. Non abbiamo lampadine che vanno cambiate spesso e consumano tanta energia e neanche le luci a neon che sono tanto disti. Tutta la scuola è illuminata da luci LED che durano fino a 60.000 ore e ci permettono di avere una luce bellissima e ben direzionata e a risparmiare fino al 50%.